Ci siamo quasi giunti in chiusura ma è la volta di vedere la prova danza anche per il terzo istituto in gara parliamo dell'ITC Guido Carli di Casal di Principe lei è Italia De Rosa vediamola Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Allora Bene Bene A un certo punto ti sei messa lì spada pac da terra e non ti sei mossa più Va bene così C'ha ragione lei Con la mia amica vai nel backstage ci racconti tutto quello che hai provato Se per te è la prima volta e tutte le altre cose che Linda ti chiederà Ok? Grazie a dopo Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti